Eugen Fink. Eugen Fink visse tra il 1905 e il 1975. Fu allievo di Edmund Husserl e di Martin Heidegger a Friburgo. Di Husserl fu l'ultimo assistente e a lui il padre della fenomenologia guardava come all'unico dei suoi allievi che avrebbe potuto completarne l'opera incompiuta. In realtà l'itinerario di Fink muove da Husserl è vero ma poi passando per Heidegger addiviene alla fondazione di un pensiero autonomo e di una posizione teorica del tutto a sé stante. Fin dall'opera riflessioni sulla protostoria ontologica di spazio tempo movimento del 1957 Fink sostiene l'inadeguatezza del metodo fenomenologico di Husserl per chiarire i concetti cosmologici essenziali del tempo, dello spazio e del movimento. Questi non sono dei puri e semplici fenomeni, sono qualcosa di più fondamentale che è alla base dei fenomeni e alla cui chiarificazione si richiede un diverso metodo ontologico come lo chiama Fink. Nel testo successivo intitolato Essere, Verità, Mondo, questioni preliminari al problema del concetto di fenomeno del 1958, Fink critica aspramente il concetto di fenomeno al quale imputa l'insufficiente definizione della differenza tra i due modi dell'apparire, apparenza, shine e apparizione, ershining. La metafisica tradizionale, dice Fink, interpreta l'apparire come un che di, possiamo dire, un che che accade tra due enti intramondani, la facoltà rappresentativa del soggetto e le cose. L'apparire si pone come qualcosa che si manifesta tra queste due realtà. Ora, dice Fink, dobbiamo sforzarci di concepire l'apparire come un evento più originario della stessa apparizione dell'ente, vale a dire come il dispiegarsi vicendevole di verità e mondo. L'apparire coincide allora con il processo dell'universale individuazione, grazie alla quale le cose si profilano spazialmente e temporalmente nel quadro della totalità onnicomprensiva del mondo. Ci vuole allora un nuovo pensiero dell'essere, come bene ha evidenziato Heidegger, al quale Fink si richiama. Un pensiero dell'essere che sappia dischiuderci il senso del mondo come la regione di tutte le regioni, scrive Fink. La ricerca di Fink, soprattutto nel suo scritto Tutto e nulla, una via più lunga alla filosofia del 59, è dedicata al concetto kantiano di mondo e assume la forma di una ricostruzione storica del concetto metafisica di mondo. È su questa base che si possono misurare le distanze di Fink rispetto a Martin Heidegger. Fink è d'accordo con Heidegger nell'intendere la storia della metafisica occidentale come storia dell'oblio graduale dei concetti autentici di essere e mondo. E però Heidegger pone l'inizio di questa caduta già in Platone e in Aristotele. Fink, per parte sua, scorge già una profonda frattura tra il pensiero del mondo degli ionici e il pensiero dell'essere degli eleatici, tra Eraclito e Parmenide. Il primato dell'idea dell'essere rispetto a quella del mondo rappresenta, per Fink, quell'evento fatale che si contraddistingue come oblio del mondo. La genesi dell'ontologia coincide allora con l'esclusione del movimento dal regno dell'essere. Al contrario non si può ricavare il senso originario del mondo senza considerare insieme spazio, tempo e movimento. Fink ravvisa in Anassimandro la presenza di un diverso pensiero che non coglie nell'eon, il non spaziale, il non temporale, il non mosso, la misura assoluta delle cose intramondane, ma prova ad afferrare l'essere dell'ente a partire dall'orizzonte del mondo. Nell'idea propria di Anassimandro dell'aperon, l'infinito, la vera infinitezza del mondo è assunta come base da cui derivano tutte le cose. Il tutto del mondo è come il grembo in cui tutte le cose sono avvolte e salvaguardate. I due movimenti opposti, dello scaturire delle cose dall'aperon e del loro declinare nell'aperon, sono concepiti come una sorta di giuoco cosmico, un giuoco cosmico a cui sono affidate le sorti sia dei piccoli uomini sia delle immani masse stellari. Il pensiero dell'infinito, del movimento originario e del giuoco sono per Fink tre elementi che bisogna recuperare in un rinnovato pensiero non metafisico del mondo. Al tema del giuoco, Fink dedica il suo scritto Il giuoco come simbolo del mondo, del 60. Qui il punto di avviamento è dato da un'intuizione del pensiero greco più antica rispetto a Platone e ad Aristotele. L'immagine di Eraclito del lion, il corso del mondo, come un bambino che gioca a dadi. La tesi di Fink è che il fenomeno umano del gioco acquisti un significato universale, Fink parla di trasparenza cosmica, e che dunque il giuoco sia il mondo in qualche modo che si presenta in una nuova forma. Sia al giuoco sia il mondo si prestano a essere chiariti l'uno alla luce dell'altro. Si dà naturalmente una differenza cosmologica, che richiama la differenza ontologica di Heidegger, cioè una differenza cosmologica tra il giuoco come fenomeno umano e il giuoco del mondo. Il giuoco umano si svolge tra enti intramondani, l'uomo e le cose. E' però la specificità dell'essere nel mondo dell'uomo, che è quell'ente che si rapporta estaticamente al mondo e lo penetra in maniera comprensiva, fa sì che il giuoco umano possa assumersi come simbolo del giuoco cosmico. Criticando metafisicamente il giuoco, e dunque in qualche modo criticando la teorizzazione platonica che abbassa il giuoco a semplice immagine apparente del mondo, e dall'altro criticando l'immagine mitica in cui il giuoco viene sacralizzato e dunque ricondotto a regole preordinate, di cui l'uomo non è autore, lo sono invece gli dei o i demoni, ebbene con questa duplice critica Fink giunge a fissare le seguenti determinazioni del concetto di giuoco. Nel giuoco l'uomo realizza la sua fondamentale apertura al mondo. Il giuoco è caratterizzato dalla totale gratuità, dall'irrealtà, da un senso di gioia pagana per il sensibile. Un senso di gioia in cui si sperimenta il piacere dell'apparenza, scrive Fink. Nel giuoco l'uomo sembra mimare la stessa onnipotenza del mondo. Ecco perché il giuoco è simbolo del mondo, del suo essere senza fondamento, senza scopo, senza senso, senza valore, senza progetto. E però insieme il giuoco tiene insieme spazi e tempi per l'essere delle cose. Infatti il giuoco ha un fine, è ricco di significato e di valore. A differenza del giuoco umano, il giuoco cosmico è senza giocatore. È un governo cosmico degli enti che non può essere riferito ad alcuna entità personale. Per questo il mondo, al di là di ogni illusione teologica, mantiene per l'uomo tutto il suo mistero. Tra le opere di Fink dobbiamo inoltre fare menzione di Oasi della gioia, 57, la filosofia di Nietzsche, del 60, e sull'entusiasmo. Il testo sull'entusiasmo mette al centro la tensione fra entusiasmo e ragione, una tensione che si mantiene in un equilibrio inteso come il solo presupposto per una creatività originale e per la libertà del pensare. Salvaguardare uno spazio positivo all'ambito dell'entusiasmo nella cornice della produzione filosofica vuol dire mirare un'inclusione del campo delle emozioni nel quadro del discorso filosofico e dunque vuol dire stendere il concetto all'irrazionale. Il contributo filosofico di Fink a questo ampliamento dell'orizzonte, che in altre opere egli sviluppa soffermandosi su fenomeni dell'esistenza come il giuoco, il conflitto, il mito, la gioia, si colloca nel più ampio orizzonte delle applicazioni del discorso fenomenologico di Husserl e ha come punto di avviamento il filosofare sia di Husserl sia di Heidegger. Oltretutto questo contributo di Fink sarà la base per riflessioni che potranno spaziare dalla filosofia alla religione, dalla poesia all'arte e sotto questo riguardo la filosofia di Fink svolgerà una parte non trascurabile per sviluppi filosofici successivi.